Casellati, come abbiamo detto, non è la rosa dei tre nomi perché è la Presidente del Senato quindi ha già un ruolo istituzionale che la rende assolutamente candidabile di per sé è un nome su cui potrebbero convergere anche loro magari Senta, ma Fornaro ha già detto no alla Casellati Eh vabbè, Fornaro, rispetto l'opinione di Fornaro, ma Casellati resta un nome molto autorevole